Ciao, sono qui nello spazio Resnuda, uno spazio teatrale a Pescara a cui fa capo l'associazione culturale Resnuda Teatro. Resnuda è attiva da appena cinque mesi, quindi da ottobre, però già ha un carnet di appuntamenti che ci sono stati e che ci saranno abbastanza variegato. Volevo sottolinearne uno in particolare che è uno spettacolo che si chiama Tracce di Cera, La storia del disco nel jazz, un testo scritto da Marco Di Battista che andrà in scena proprio qui nello spazio Resnuda, venerdì 14 marzo alle 21 e domenica 16 marzo alle 18. Che cos'è Tracce di Cera? È un testo che ripercorre un pochino l'evoluzione del supporto fonomeccanico durante il ventesimo secolo fondamentalmente, quindi in quel periodo in cui c'è stato un grande fermento nella musica jazz con i suoi grandi protagonisti. Quindi l'evoluzione del supporto fonomeccanico che cosa significa? Significa che viene ripercorsa tutta l'evoluzione di questa apparecchiatura che poi restituisce il suono per ascoltare musica, a partire dai cilindri per arrivare fino al disco, quello che comunemente conosciamo come vinile a 78 giri che poi diventerà l'home plane eccetera. Il testo verrà letto da me che sono Alizio Budini. I miei interventi saranno allietati dalla grande musica jazz eseguita da tre musicisti, tra questi Marco Di Battista al pianoforte, anche autore del testo ribadisco, Franco Finucci alla chitarra e Giorgio Pelagatti al contrabbasso. Se volete potete seguirci anche su Facebook, sulla pagina Facebook con Resnuda Teatro oppure sul sito che è resnudateatro.wix.com slash resnudateatro. Mi raccomando venite, vi aspettiamo numerosi, lo spettacolo è bello, è interessante e soprattutto si ascolterà della ottima musica jazz. Venite, vi aspettiamo, ciao!